Una lotta senza quartiere da parte dell'amministrazione comunale di Pescara per chi sporca, per chi inquina, soprattutto per chi getta rifiuti ingombranti in città. 151 persone sono state già individuate, Sindaco. Individuate e sanzionate. 106 hanno già ricevuto la contravvenzione a casa, altri 45 la riceveranno. Oggi, quando i cittadini vedono un rifiuto ingombrante per strada, sanno che quella persona che ha scaricato quel rifiuto e quindi ha creato degrado in città, verrà sanzionata. A oggi ci sono 23 telecamere fisse e mobili che fanno questo controllo. Tra breve ne avremo 38 che copriranno capillarmente tutto il territorio di Pescara, perché i cittadini ce l'hanno chiesto di avere un controllo più puntuale sullo scarico dei rifiuti ingombranti. Noi abbiamo organizzato un servizio che sta dando i suoi frutti perché in un mese, dal 15 settembre al 15 ottobre, abbiamo avuto 151 sanzioni. Quindi da oggi in poi, quando qualche cittadino vedrà un rifiuto ingombrante per strada, potrà pensare tranquillamente che quella persona sarà sanzionata. Io credo che questo bloccherà questo sistema. Oltretutto alla sanzione, per alcuni casi specifici, si aggiunge anche il sequestro del mezzo, perché se si commette un illecito penale su alcune tematiche, il mezzo viene sequestrato. Già ne abbiamo sequestrati alcuni, perché oltre alle telecamere abbiamo in azione degli agenti di Polizia Municipale che con le moto in borghese fanno questo controllo e riescono a individuare, a sanzionare, a sequestrare il mezzo di quelle persone che pensano di utilizzare la città come una discarica.